numero 5 questo capanno è realizzato in solido legno di abete verniciato all'esterno e ti permetterà di conservare i tuoi attrezzi e tenerli al sicuro dagli agenti atmosferici dotato di tremensole rimovibili per gli oggetti più piccoli e una zona più ampia per quelli più grandi il soffitto inclinato in alluminio proteggerà il tuo capanno dal vento e dalla pioggia evitando infiltrazioni d'acqua sul soffitto è presente una finestra per la ventilazione accesso rapido e semplice a tutti i tuoi attrezzi attraverso una porta scorrevole ottimo rapporto qualità prezzo il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 4 questo capanno da giardino offre tanto spazio per riporre attrezzi tosaerba bici e piccoli arredi per esterni realizzato in solido acciaio galvanizzato resistente alle intemperie e alla ruggine per garantirti una lunga durata nel tempo il tetto con design inclinato favorisce il deflusso dell'acqua piovana per evitare ristagni che potrebbero rovinare la struttura e il contenuto del capanno da giardino puoi entrare e uscire facilmente grazie all'ampia porta dotata di un piccolo catenaccio per tenere i tuoi oggetti al sicuro puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 questo capanno da giardino è perfetto per riporre un'ampia varietà di oggetti come attrezzi e mobili da giardino realizzato in acciaio zincato richiede una manutenzione minima ed è molto resistente l'acqua piovana scorre automaticamente dal tetto grazie al suo design inclinato disponibile in tre colori richiede l'assemblaggio il pavimento non è incluso ottimo articolo trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 capanno per attrezzi da giardino con ampio spazio realizzato in acciaio rifinito con materiali impermeabili e anti ruggine questa casetta porta attrezzi è perfetta per l'esterno inoltre grazie alla serratura con chiavistello puoi tenere i tuoi accessori sempre al sicuro semplice l'assemblaggio il capanno è progettato per favorire il drenaggio dell'acqua piovana e per impedire accumuli di umidità la pavimentazione non è inclusa trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 capanno da giardino con esterno elegante finitura effetto legno dotato di più condotti di ventilazione per la circolazione dell'aria le cerniere in metallo sono molto resistenti il capanno ha una serratura in acciaio predisposta per lucchetto non incluso questa casetta da giardino è adatta per riporre arredo e attrezzi da giardino il pannello del pavimento è incluso realizzato in plastica resistente agli agenti atmosferici non richiede manutenzione facile da assemblare disponibile anche in altri modelli in descrizione trovi il link di questo prodotto